Michele l'ho visto alquanto nervoso, ha bisogno di qualche giorno di staccare la spina, si è allenato tranquillamente a parte, dopo giovedì il ragazzo tornerà dentro, vediamo un po' come le cose vanno e tornerà dentro, ha bisogno di un momento di riposo. Io ci ho parlato, ho chiesto scusa davanti a tutto il gruppo, è logico che poi ci sono io che devo far funzionare questo gruppo e devo mettere delle regole, ci sono delle regole, che loro sanno, chi sbaglia viene punito, però questo è un gruppo saneo e che ha voglia di fare il risultato e tirarsi fuori il prima possibile. Questi episodi capitano tutte le domeniche su tutti i campi del mondo, chi esce, chi butta la casacca, chi dice una cosa, quindi Stefano a differenza non ha mancato di rispetto, ha solo chiesto il motivo perché era stato tolto, io gli ho dato la spiegazione in quel momento e da fuori si è travisato che era successo qualcosa, ma con Pettinaro è successo niente. Per quanto riguarda quelli della curva, a parte il primo coro che purtroppo ormai è da tanto tempo che esiste, non li possiamo imbutare niente perché poi il tifo ce l'hanno fatto. Dispiace per il resto dello stadio perché non si capita che un sostegno a un ragazzo che magari è in difficoltà, che sta difendendo i colori della propria città, perché alla fine i giocatori difendono i colori della propria città, non capiamo che dobbiamo salvare il Pescara. Non dobbiamo salvare né Epifani né la società, noi salviamo il Pescara. Adesso Epifani magari è scarso, parlo sempre di me perché è come se stessi parlando dei miei ragazzi, fai due risultati e Epifani è un fenomeno. Ma questa è la legge del calcio, io so quello che sto facendo, sto lottando insieme ai ragazzi, cercando di tirarci fuori il prima possibile, ma più che altro di fare un grande risultato, perché fare un grande risultato significa far ripartire nella testa a questi ragazzi che sono dei buoni giocatori e che possono fare un finale di campionato degno di quello che sono. Sicuramente Brescia trovi un ambientino non semplice, quindi sarà una partita difficile. Incontriamo in questo momento una squadra dove ce la possiamo giocare come abbiamo fatto ad Avellino, quindi è una partita sicuramente che noi lo sappiamo. Non incontri l'Empoli sicuramente, incontri una squadra che ha dei giocatori importanti, perché Caracciolo che secondo me è un giocatore straordinario per questa categoria, ultimamente hanno fatto 4-3 e 4-4-2, quindi bisogna capire come vorranno partire domani. Grazie a tutti.